Terra Amara curiosità. Alcuni segreti che, sicuramente, non sai. Il titolo non. Terra Amara è in onda su Canale 5 da lunedì 4 luglio. Da allora, la fiction turca non ha fatto altro che appassionare i telespettatori italiani a tal punto da far incuriosire ciascun appassionato alle storie d'amore estruggenti esattamente come quella tra Zulia e Ilmaz, costretti a scappare da Istanbul. In onda dal lunedì al venerdì sul quinto canale vi è la messa in onda delle puntate di Terra Amara, la serie tv turca che sta letteralmente appassionando il pubblico italiano. La storia d'amore tormentata tra Zulia e Ilmaz e le vicende dei personaggi che vivono attorno ai protagonisti mantiene alta l'attenzione dei telespettatori. Il racconto dei due innamorati costretti a fuggire da Istanbul in seguito a un tragico evento arrivano a Kukurova. Quasi mille.